Questo stadio si fa o non si fa a Casaleggio? Perché non fate votare? Perché non fate il voto online a Casaleggio? Stai tradendo il vostro elettorato? No ragazzi, così no. Non ci puoi dire qualcosa? Che cosa mi chiederete? Non ci dice nemmeno una parola sulla sfera dello stadio? Stiamo lavorando sul programma oggi. Sul programma? Che tipo di programma? Il programma di governo. Faremo diversi voti online per quanto riguarda il programma di governo. Dello stadio no, perché no? Non fa parte del programma di Roma? Stiamo lavorando sul programma. Che ha detto il voto online? Aiuto ragazzi! Non fa parte del programma diブラ